e dice che il male esiste, ma non esiste in assoluto, deriva da un cattivo uso della volontà, la volontà del governo del mondo, ed è un motivo per cui sono un psicologo che aiuta la persona a prendere pieno consenso del governo del mondo, cioè essere così che è una proposta che c'è in un mondo, perché la stessa c'è pienamente, utilizza tutte le tecniche di una storia che c'è, dalle sue sue storiche, dalla relazione, dall'andare a questi giorni, le frasi per farmi emergere nel pensiero del bambino, si chiama il pensiero della tua, del pensiero della tua, del pensiero della tua, del pensiero, del pensiero, dipende dalla relazione alla mia, deve stare bene con l'altro, non, ma chiaramente però capite che dalle frasi che ci arrivano, i dispositivi, che io chiamo dispositivi di fumare, può accadere anche noi, nelle frasi che abbiamo più vero, ok? Ci sono delle frasi, per esempio, omaggio a questa finestra o soldi dalla finestra, a meno che non è meglio, cioè rimane in sé, ma quando, ad esempio, un genitore dice, credi più a me che ti voglio bene, rispetto a quello che pensi, credi che un genitore è una condottore di un genitore, il bambino può essere facilizzato, perché lui usa la sua competenza personale nel portare alla realtà di un bambino, ma quando è un prodotto, ti esalta la vostra, guardate il primo video che lui è stato messo, ti inveto, ti autorizza la piena, il bambino, c'è di un genitore, se il bambino, gli dico la verità, lui ha un'altra, e questo può essere il problema, analizzare l'orereo delle famiglie, quando il genitore gli dice, credi più a me che voglio bene, il bambino è un bambino, ma il bambino finisce la visione, l'illustrazione di un bambino, questo forse era prima degli anni 90, oggi abbiamo altri tempi di un bambino, grazie a tutti